Eri Viusi ASMR Ciao amici Viusini, come state? Spero tutto bene Oggi andremo a mangiare le patatine a forma di pipistrello e ragnatella Siete pronti ragazzi? E allora cosi? Siete pronti ragazzi? 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 Grazie. Patatina. 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 Bene ragazzi, adesso andiamo a mangiare le nostre patatine a forma di pipistrello e ragnatela. Guardate quanto carino. Pipistrello, pipistrello, pipistrello. ほど siis patatina azzicino dottomitolo diccio. Patatina. Patatina shmite. Dottomitr. Czzzticbat phee senca. meine... Orsektio di dettagli ho omo. Si Chen go sch tickeriStart. Keine la chutan più buca. Sì. Sì, non è vero. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 c'è sempre questo sottofondo affinché non finisco io con lui con la ciottola con la ciottola Sì, non è vero. Non so, non so, non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so. Bene ragazzi, io vi ringrazio di essere stati in compagnia con me e di aver visto questo video e vi do l'appuntamento al mio prossimo video. Ciao, 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 c'era anche Zeus che voleva salutarvi ma si sta facendo un baglietto dopo che ha mangiato e quindi ve lo saluto io da parte mia. Ciao, buona giornata.